Non siamo la migliore squadra di supereroi. Siamo una famiglia. E come qualunque famiglia, ognuno è incasinato a modo suo. Andiamo in giro a salvare vite, mentre le roviniamo allo stesso tempo. Ricostruiremo tutto, Mark. Contaci. E la tua gente ha bisogno della tua forza. Avranno tutto sotto controllo. Ammirate omnipotus! Sremate innanzi al mio infinito potere! No. Mark, devi tornare nello spazio. Cosa? Ma sono appena tornato! C'è una navicella piena di sepidi. Se metteranno i tentacoli sulla Terra, ci comanderanno per sempre. Ve l'avevamo detto che siamo troppo potenti. Saremo tutti fottuti? Come ha fatto un singolo momento sulla Terra a trasformarti in questo debole traditore sentimentale? Rispondimi! Qual è l'occasione per un completo così elegante? Devo far visita a un vecchio amico. È bello essere a casa. Morite in fretta, stronzi. La mia pizza si raffredda. Il retaggio della tua famiglia è il sangue. Adesso basta! Non permetterò mai a nessuno, mai a nessuno di fare del male alla mia famiglia! Mi dispiace. Non permetterò mai a nessuno di fare del male alla mia famiglia! Ma basta!